Le nuove tecnologie oggi stanno innegabilmente abilitando la nascita di nuove professioni. Le donne hanno il giusto accesso a queste nuove professioni? Teoricamente, diciamo così, come sempre succede, le donne oggi come oggi dovrebbero avere l'opportunità, indipendentemente dal genere, di accedere a tutte le professioni e anche a quelle che hanno necessità di competenze digitali spinte, spiccate. Il punto della questione, mi permetto di dire, è che se guardiamo i numeri non è un problema solo delle donne, è un problema in generale. Nel prossimo futuro un'indagine dell'Unione Europea dice che 9 lavori su 10 richiederanno competenze digitali e queste competenze purtroppo in Italia sono carenti non solo per le donne ma anche per gli uomini. C'è un'ulteriore classifica relativa alla digital skill fra i 27 paesi membri dell'Unione Europea nel quale il nostro paese, l'Italia, risulta essere diciottesima pur avendo un PIL che invece la posizionerebbe almeno per dimensioni al terzo posto in Unione Europea. Quindi la mia risposta è che in linea di massima, in teoria, non ci dovrebbe essere differenza. L'accesso, ripeto, agli studi è un accesso che non ha nessuna distinzione di genere e da un certo punto di vista, a mio avviso, un fatto culturale come molto spesso ho detto anche partecipando a incontri con le scuole e un fatto che ha radici ancora in una caratterizzazione del lavoro digitale come un lavoro altamente tecnologico che richiede competenze particolari meno tipicizzate per quelli che sono le propensioni che si collegano di solito alla figura femminile e quindi proprio per questo è molto difficile superare questa difficoltà e questa carenza proprio perché bisogna cambiare prima la testa delle persone.